A Salerno solo 30 edifici scolastici sono stati costruiti con criteri antisismici e quanto attesta il dossier nazionale di Lega Ambiente Ecosistema Scuola 2018 dedicato all'edizia scolastica nel quale Salerno si assesta a metà classifica al 63esimo posto. Nel capoluogo salernitano il monitoraggio è stato effettuato su 45 edifici scolastici frequentati da circa 12.000 ragazzi. Il 66% di questi è risultato essere stato costruito prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica del 1974. 13 edifici sono stati costruiti secondo criteri antisismici e solo su due edifici è stata eseguita la verifica di vulnerabilità sismica. Sono stati 40 invece gli edifici che hanno goduto di interventi di manutenzione straordinaria negli ultimi 5 anni, 6 quelli che utilizzano fonti di energia rinnovabile e 23 gli edifici che dispongono di strutture sportive aperte in orario extrascolastico.